I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle ONG o di organizzazioni statali, europee e internazionali, ovvero con mezzi propri, sono sottoposti a visita medica e sono posti in quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordo della nave di arrivo, dove ciò sia consentito in sicurezza o su navi quarantena predisposte dalle autorità del Governo centrale. È quanto prevede un'ordinanza emessa ieri sera dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per evitare il potenziale rischio di contagio da Covid-19 sull'isola. Il provvedimento prevede anche l'obbligo di eseguire gli accertamenti sierologici per tutti i migranti e anche il tampone per chi presenta i sintomi da infezione da coronavirus. Gli esami, dove possibile, sono da eseguire sulle navi. Il decreto del Presidente Musumeci istituisce anche le aree speciali di controllo nelle zone portuali di sbarco e vicino gli hotspot, dalle quali è fatto di vieto di uscire. Previsto anche che le prefetture competenti informino dell'arrivo dei migranti e l'autorità sanitaria regionale e che del trasferimento dei migranti presi in carico nei centri d'accoglienza e comunque sbarcati in Sicilia venga data tempestiva comunicazione da parte delle prefetture competenti per il territorio al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. Anche a livello nazionale il Governo è intervenuto ieri con una nuova ordinanza anti-Covid. Con l'ultimo DPCM il Governo ha prolungato le misure di contenimento fino al 31 luglio. Resta dunque almeno fino alla fine del mese l'obbligo delle mascherine al chiuso e in tutte le occasioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento. A comunicarlo è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza illustrando in aula al Senato il nuovo provvedimento che in pratica proroga le indicazioni contenute nel DPCM dell'11 giugno scorso. La partita per sconfiggere il Covid ha dichiarato e tutt'altro che il terminata serve prudenza oltre all'obbligo di usare le mascherine permane il divieto di ingresso in Italia da paesi extraeuropei e controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti, ha continuato Speranza. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi. Aggiorneremo costantemente questa lista, aggiunto, e per tutti gli arrivi da paesi extraeuropei è confermata la quarantena di 14 giorni. Anche nel DPCM manato ieri continuano ad essere previste le sanzioni penali per chi viola l'isolamento. Andando oltre l'ordinanza riguardo la riapertura delle scuole in sicurezza, Speranza ha aggiunto che senza la riapertura di tutte le scuole non saremo mai veramente fuori dal lockdown e per tenere un livello alto di monitoraggio il personale scolastico, ha annunciato il Ministro, sarà sottoposto a indagine sierologica. Grazie a tutti.